gas in movimento nuova zona sicura individuata prezzi delle stazioni di acquisto ritoccati un nemico in discesa nell'area operativa uabin nemico in volo uabin nemico in volo uabin nemico in volo la vittoria difende da te completa la missione uabin nemico in uabin nemico in volo prezzi tornati alla normalità gas in arrivo nemico in discesa nell'area operativa uabin nemico in volo dirigiamoci verso la zona sicura centro gas in arrivo zona sicura riposizionata granata lanciata nemico in discesa nell'area operativa non si rialzi mi stanno colpendo uabin nemico in volo state perdendo terreno stiamo nella zona sicura 10 rimasti stiamo al Alla nuova zona sicura Gassi in avvicinamento Subisco colpi diretti Sono un bersaglio Merda, sono sotto tiro Gassi in arrivo, zona sicura riposizionata La zona sicura è lontana, dobbiamo muoversi Inizia in arrivo, in arrivo, in arrivo Non colpiscono Gassi in arrivo, in arrivo, in arrivo, in arrivo Grazie a tutti. Grazie a tutti.